ben ritrovati amici di youtube qui sul mio canale sta succedendo di tutto quindi doppio video domenica sera ci sono giocate altre partite di serie a il tracollo del napoli a verona napoli che esce a pezzi dalla trasferta del bentegodi bologna udinese pareggio quindi sei partite finora tutte pareggio tra l'altro si sta giocando è in parità anche lazio venezia al momento e pure di roma quindi al momento sarebbero sette pareggi su otto unico risultato che non è finito in parità verona napoli lezione del verona napoli napoli che è un cantiere aperto conta aveva avvisato alla vigilia evidentemente non è ascoltato evidentemente qualcuno ha sottovalutato il monito di conte sbagliando la società deve correre ai pari domani visite mediche per david neres 28 milioni arriva come esterno offensivo sicuramente può dare una mano ma napoli manca qualcosa in mezzo al campo di personalità di sostanza può essere utile gilmore serve qualcos'altro mc tomini resta un obiettivo ma ovviamente il napoli ha bisogno anche di di un difensore al mio modo di vedere sicuramente buongiorno alla senza che pese è stato preso rafa marin forse ancora acerbo serve qualcos'altro se napoli schiera ancora one jesus c'è qualcosa che non funziona c'è qualcosa che non va e lo si è visto perché poi sul primo gol si fa uccellare da livramento il difensore brasiliano quindi napoli ha ancora dei problemi la furia di conte ma il napoli deve correre ai pari deve velocizzarsi non c'è tempo da perdere non si può più sbagliare anche perché ha il rischio altrimenti quello di un anno di transizione sono d'accordo con quello che ha detto conte nel post partita è un gruppo quello del napoli al quale manca un po di fame è un gruppo che alle prime difficoltà si scioglie come neve al sole è un gruppo al quale manca cattiveria manca fame probabilmente i giocatori dopo che hanno vinto si sono un po seduti si sono creduti più bravi più belli più splendenti luminosi di quello che erano hanno fatto un exploit è sempre difficile riconfermarsi l'anno dopo è stato un disastro ma il napoli quando c'è una difficoltà manca spirito di sacrificio manca come si direbbe appunto a napoli la cazzimma manca il sangue nelle vene che scorra quella quella furor agonistico che solitamente hanno le squadre di conte ma che evidentemente conte non è ancora riuscito a trasmettere chiusa la parentesi di campionato parliamo di mercato perché sta succedendo di tutto in casa atalanta venduto è il bilalture operazione da 3 più 24 pacchetto da 27 prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni bilalture non era nei piani di gasperini era stato l'acquisto più importante della storia della dea 30 milioni non ha praticamente mai giocato ha avuto anche un grave infortunio dal quale poi una volta guarito però non è mai stato messo in campo con continuità quindi saluta il bilalture tra l'altro che deve rifare tutto l'attacco perché perché la notizia di oggi al di là dell'ufficialità di samaric operazione da 22 milioni più 4 di bonus prestito con obbligo ma scatta al primo punto nel giorno del ritorno insomma non è un'operazione in discussione la vera grande notizia che che vi do e sul quale si può scatenare un giro clamoso di attaccanti è che lucman ha chiesto la cessione lucman oggi non si è allenato ha detto all'atalanta voglio andare via quindi dopo covminers un altro caso all'atalanta quello di lucman attenzione perché lucman ha dietro di sé una pretendente importante si tratta del pari san germain c'è il pari san germain dietro al mal di pancia di lucman c'è il pari che vuole lucman e gli ha offerto più del tripo di stipendio lucman non guadagna neanche 2 milioni a parigi guadagnerebbe 6 per 4 anni e forse anche un'opzione per il quinto lavoro in corso l'atalanta dice ma noi offerte non abbiamo ricevute però lucman si chiama fuori l'atalanta vuole a lecce per la gara di domani e lucman non c'è non c'è zaniolo che non sta bene non c'è il bigalture che va lo stoccarda non c'è scammacca che è infortunato quindi atalanta in grande emergenza punterà tutto su retteghi e decchettelare gasperini ma sicuramente se pensiamo al tridente dell'anno scorso dell'atalanta che ha vinto l'europa league con minors vuole andare alla juve di un separato in casa questione di 2 3 massimo giorni cambia poco 24 48 72 ore con minors vuole andare alla juve non cambia idea e lo sa anche l'atalanta però l'atalanta vuol fare uno sgambetto alla juve perché perché se perde anche lucman deve prendere un altro giocatore offensivo almeno visto che perde anche il bigalture come minimo ne serve uno se non secondo me anche due però al momento sicuramente uno e c'è un ritorno di fiamma c'è stato un contatto importante nel tardo pomeriggio tra l'atalanta la fiorentina e gli agenti di nico gonzalez l'atalanta torna forte su nico gonzalez che però ha detto voglio andare via alla fiorentina che lo sa non l'ha neanche inserito nella lista serie a non gli ha neanche assegnato la maglia numero 10 che rimane libera al momento forse la prenderà gudmundson ma vuole andare alla juve nico gonzalez sarà d'accordo con la juve con quel annale da 3 milioni e 6 commisso prefererebbe darlo all'atalanta salva sandir perché ovviamente vendere l'ennesimo gioiello bernardeschi chiesa vlaovic vende pure nico gonzalez sarà juve a firenze esplodono vediamo che succederà c'è questo intrigo intanto la juve sta lavorando in uscita domani nicolussi caviglia va al venezia operazione da 5 milioni bonus compresi 4 anni con opzione per il quinto per il centrocampista valdostano rugani domani va in prestito secco all'ajax questa è stata un'operazione un po strana la juve camaggio li rinnova il contratto per due anni lui guadagnava 3 milioni decide di rinunciare a qualcosa si riduce lo stipendio a un milione 8 quindi sarà tagliato del 40 per cento può dire stare due anni con opzione per il terzo al 50 per cento delle presenze arriva tiago morta lo vede due allenamenti dice non sa giocare coi piedi non sa impostare non va bene e va in prestito non in massimo come operazione questo va detto per onestà intellettuale comunque per rugani una bella avventura all'ajax club prestigioso ha avuto fortemente farioli e due sono entrambi di lucca sono grandi amici c'è grande feeling e tra l'altro curiosità rugani sarà il secondo giocatore italiano nella storia dell'ajax dopo lorenzo lucca quindi lucca in tutti i sensi è stato se vogliamo decisiva in questa trattativa arriviamo adesso al milan perché perché ibraimovic continua a fare e portare avanti la metafora dei sette giorni la creazione del mondo da parte di dio in sette giorni la creazione del moro milan da parte di ibra in sette giorni il sesto è stato fofanà il settimo potrebbe non essere un'uscita perché ibra sornione ieri ha detto in conferenza stampa il mercato si chiude quando lo dico io come dire magari last minute una sorpresina ci può stare in difesa non penso è vero che in difesa il milan ha lasciato desiderare col torino ma andando via caludo ha già quattro centrali non penso che ci sarà in difesa il milan ha completo davanti io vi c'è un po deluso occhio sempre a temi ebram ma la sensazione che se dovesse andare via due tra adli e pobega oppure adli e benasser oppure pobega e benasser uno spazio a centrocampo ci potrebbe essere allora occhio sempre al nome di manu conè vecchio pallino del milan il centrocampista francese del non c'è in laba che il milano offerto 16 milioni il laba che ne chiede 25 la sensazione che ha 20 più bones come tale quale a fofanà anche lui in scadenza tra un anno lo dia anche perché al momento manu conè ha rifiutato il rinnovo col bossa non c'entra ma ci sta pensando anche la roma se dovesse vendere edoardo bove e fare le uscite a centrocampo il milan però al fattore della champions e quindi attenzione al club rosso nero potrebbe essere lui la ciliegina sarebbe ulteriormente un grande colpo e lui la ciliegina oppure chi vorreste come ultimo colpo del milan in entrata ditemi la vostra le mosse in uscita della juve questa operazione rugani che non ha convinto molto l'inserimento dell'atalanta su nico gonzales lucman che vuole andare via che succederà come sostituirlo insomma in napoli che prende david neres sta prendendo gilmour deve vendere osimen che non ha offerte deve prendere dukaku però intanto stecca la prima vi ha deduso vi aspettavate di più insomma pareri domande considerazioni qui nei commenti sotto il video in alto a destra la campanella attivare per non perdervi neanche una notizia e un video e avere tutte le notifiche in tempo reale in alto qua vedete il pollicione se vi è piaciuto il video ci cliccate sopra mettete il like e naturalmente condividetelo su facebook su twitter su instagram su tiktok tagliate dei clip fatele girare nelle chat telegram le chat di whatsapp spammate il video ovunque siamo lanciati verso i 29.000 ci vogliamo arrivare questa settimana e poi entro la fine del mercato 30.000 sto sognando ci proviamo tentare non costa nuda dipende da voi dal vostro affetto dal vostro sostegno al vostro incoraggiamento quindi vi aspetto iscrivetevi al canale lo vedete qui prendete mezzo secondo vi iscrivete e insomma non costa nuda ma date un segnale di affetto sostegno incoraggiamento che male non fa mai grazie a tutti ci vediamo domani ciao